Nel tavolo tecnico per il dimensionamento della rete scolastica 2019-2020, l'assessore Piero Fioretti ha confermato ufficialmente la novità. Per la scuola in Abruzzo il ritorno sui banchi è stato posticipato rispetto alle altre regioni. La prima campanella suonerà il 16 settembre. Sì, stiamo cercando di stringere i tempi per poter affrontare al meglio tutte le situazioni più critiche. Il calendario sembra sia stato apprezzato per quella che è la novità che abbiamo dato, cioè un'apertura scolastica un po' più lontana dal periodo estivo vero e proprio, quindi metà settembre. Comunque anche lì abbiamo lavorato bene con gli uffici scolastici regionali e provinciali. Questo è un altro passaggio dove andiamo a raccogliere tutte le esigenze per quello che è il problema dei vari sottodimensionamenti di alcuni istituti, alcune altre situazioni che coinvolgono i sindacati e ci stiamo confrontando. All'iniziativa, oltre ai sindacati, hanno partecipato l'ufficio scolastico regionale con le sue articolazioni territoriali e soprattutto le quattro province. Perché comunque il discorso del personale con i sindacati, il discorso anche delle strutture, dei dimensionamenti con le province che hanno un ruolo importante, anche se c'è da rivedere anche la provincia in sé che fine farà con questa situazione purtroppo ibrida. e speriamo magari di risolvere sui tavoli nazionali per una riforma e far ritornare le province come erano una volta.